Una violenta arissa scoppiata l'altra mattina per motivi non ancora chiari in una solumeria di via Mestre ad Altamura è stata sedata dai carabinieri della locale compagnia che hanno arrestato tre persone. A fronteggiarsi sono stati da una parte un 54enne e suo figlio di 26 anni, dall'altra un 36enne tutti del posto e già noti alle forze dell'ordine. Il tutto è partito da una discussione sfociata poi in una violenta aggressione anche a colpi di bastone poi proseguita all'interno del negozio, al termine della quale il 36enne, soccorso e poi dimesso dal personale sanitario del locale ospedale, ha riportato lesioni dovute a contusioni al volto e al capo giudicate guaribili in una decina di giorni, mentre per gli altri due soltanto alcune contusioni agli altri superiori. A dare l'allarme sarebbero state alcune persone che hanno assistito alla scena e che hanno tentato, con non poche difficoltà, di separare i litiganti. I militari giunti sul posto hanno bloccato i tre, mentre nell'auto del 36enne trovati in zona, è stato rinvenuto un bastone in ferro poi sequestrato, verosimilmente utilizzato per sfondare il lunotto posteriore ed alcuni finestrini dello stesso mezzo. Scattato immediatamente l'arresto, i tre, che dovranno di rispondere di rissa su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.